Musica Allora, sono Alessia Bausone, giurista, siamo qua a Catanzaro al Festival del Servizio Sociale che è la festa regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. È un evento importante perché oggi ha scelto come tema il tema del contrasto, del superiamento dell'omotransfobia. Un tema scomodo, puntiglioso, un tema che necessita di interventi anche legislativi. Tant'è che noi insieme alle associazioni, al mondo accademico e anche a una certa sponda del mondo politico abbiamo predisposto la legge regionale contro l'omofobia che giace in Consiglio regionale, è stata approvata lo scorso gennaio dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale all'unanimità. Tant'è che io oggi l'ho ripetuto durante il mio intervento sul palco, ho detto la speranza che questa unanimità si ritrovi anche in aula, solo che bisogna arrivarci nell'aula del Consiglio regionale e non è sempre così facile e così celere, solo che la Consigliatura regionale sta finendo, si sta concludendo e allora c'è bisogno che la politica, la società e oggi anche gli ordini professionali, tra cui l'Ordine degli Assistenti Sociali, faccia la propria parte e dica che la politica regionale deve portare in aula questa proposta senza tintinnei, senza malafede, senza malizia, ma con la chiarezza della responsabilità politica. Grazie a tutti!